Un nuovo parco urbano con percorsi pedonali, giochi inclusivi e una pista ciclabile bidirezionale. È il nuovo spazio messo a disposizione della cittadinanza nel quartiere di Sassari 2, in via Pertini-Berlinguer, grazie a un intervento inserito nel piano di riqualificazione urbana dei quartieri periferici, oltre Sassari 2, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e Badimanna, predisposto dall'amministrazione comunale. I lavori per la realizzazione dell'area, iniziati nell'agosto 2020, hanno tenuto conto delle esigenze dei residenti di via Pertini, che da oltre dieci anni lamentavano l'assenza di marciapiedi e la conseguente difficoltà di accesso ai condomini. Inoltre, attraverso una modifica del percorso della pista ciclabile, è stata evitata l'eliminazione di una zona a parcheggi, soppressione decisa nel progetto iniziale, che prevedeva anche l'utilizzo del TEC per la realizzazione dei percorsi pedonali, un materiale antiestetico e costoso, che si è deciso di evitare. La spesa così risparmiata è stata utilizzata per un impianto di irrigazione. Particolare attenzione è stata riservata alla scelta delle piante da mettere a dimora, al fine di tutelare le essenze vegetative esistenti e garantire la biodiversità. Il parco è stato realizzato con un finanziamento ministeriale di circa 620.000 euro e sarà il settore ambiente a garantirne la gestione e la manutenzione. Grazie a tutti.